Uno sgombero avvenuto dalle prime ore del mattino ad opera della polizia locale di Roma capitale. Si chiude così la triste pagina dell'ex cartiera di Via Sisi, una storia di disagio abitativo e abbandono da parte delle istituzioni. Questo è uno stabile che faceva parte dell'ente nazionale cellulosa e carta. Fu dismesso all'inizio degli anni 60, è stato dismesso per quasi 36 anni, fino a quando nel 94 è partita la procedura di liquidazione dello stabile. Durante la notte abbiamo più o meno la certezza che ci siano tra le 80 e le 100 persone, perché poi durante la notte avviene un'altra situazione oltre quella abitativa, che è quella proprio dello spaccio. Ma che fine farà l'ex cartiera una volta terminate le operazioni di bonifica? Probabilmente sarà demolita.